Minister, come commenta la prestazione dei suoi? È stata una gara complicata, abbiamo sofferto nel primo tempo, nonostante il vantaggio numerico per l'escursione del loro giocatore, nel secondo tempo invece siamo entrati in un miglior modo e abbiamo sfruttato il vantaggio numerico e abbiamo capitalizzato in maniera buona le situazioni che ci sono capitate nei piedi. Anche se l'Olmo sta continuando a vincerle tutte, secondo lei c'è ancora qualcosa da migliorare? Assolutamente sì, ogni settimana noi proviamo con il lavoro a migliorarci, non siamo assolutamente arrivati nel sesto gradino che abbiamo affrontato oggi, come dicevo, in passato noi dobbiamo continuare di settimana in settimana a migliorarci e a pensare alla partita successiva come fosse la prima di campionato per arrivare il più lontano possibile. Sinceramente si aspettava un inizio di stagione del genere? So che il gruppo è ottimo, composto da buonissimi giocatori, numeroso, c'è un'applicazione maniacale durante la settimana, non mi aspettavo ovviamente di fare un inizio, sarei troppo superficiale nel dire che se i vittori di fila a inizio campionato ovviamente le firmerebbero tutti, quindi dobbiamo solo continuare pensando che i tre punti sono fondamentali ogni domenica e ogni settimana arriverà una squadra che vorrà toglierci questa soddisfazione di continuare a far bene. Grazie. Prego, grazie a voi.